Ho avuto paura che chiudessero il programma, metti occhiali, la rimessa in gioco, la palla ce l'hanno sempre i giocatori irlandesi Triangolazione nella loro metà campo, poi viene varcata in una centrale Sembra che ci siano 42 gradi in campo da come si stanno comportando le squadre, sono fermine E' dato via il sole però, non ci sono smarcamenti Appena abbiamo parlato di sole in Belgio Hendrik, vediamo con la palla